Fortunatamente è emersa la qualità dell'ingegnere che viene formato dalla nostra università. Sono emersi aspetti positivi come questo, come il fatto che queste professionalità sono molto richieste e che la formazione che diamo sostanzialmente è buona, anzi direi molto buona. Il problema è un po' l'innesto nel mondo del lavoro con dare le motivazioni, anche le soddisfazioni professionali ed economiche che si trovano in Europa e quindi cercare di trattenere i talenti che si formano, che nascono e si formano presso il nostro territorio. Dobbiamo puntare sicuramente non solo ai soldi, che comunque sono una questione importante, la remunerazione delle professioni tecniche trova sicuramente vantaggi e riconoscimenti migliori all'estero, ma anche una crescita professionale in modo tale che uno se entra in una realtà aziendale possa non rimanere sempre ingegnere di primo livello, ma possa fare una crescita che può portarlo verso diversi percorsi, che può essere un percorso manageriale, un percorso di project management, un percorso tecnico sicuramente, insomma. Cioè dare soddisfazione alle persone sia dal punto di vista del bile denaro che dal punto di vista della soddisfazione personale. Siamo fortunati in questo periodo che abbiamo delle risorse che vengono dal Next Generation EU, quindi in questo momento il problema non è quello dei soldi, ma il problema è quello di spenderli bene e spenderli per effettivamente riuscire a dare questo tipo di soddisfazione ai nostri giovani. Credo che un grande sforzo andrebbe fatto verso la semplificazione, la semplificazione delle procedure e cercare di non fare i provinciali e copiare dall'estero, ma sicuramente qualche buona pratica a portarla verso di noi. Quindi magari andare verso studi un po' più ampi, aziende un po' più strutturate, più grandi. Quindi ovviamente si fa quello che si riesce a fare, che si può, insomma. Però le premesse ci sono, ecco. Grazie.